Oggi proponiamo un bellissimo concerto per violoncello di Borja che ha avuto una storia particolare nel senso che Borja che non lo voleva scrivere all'inizio ne aveva scritto un altro poi rimasto incompleto e senza orchestrazione diceva che non gli interessava uno strumento che agli acuti suona nasale e ai bassi ringhia e borbotta e poi più avanti si è convinto così tanto che ha scritto un bellissimo capolavoro lo sentirete interpretato da uno dei più grandi violoncellisti del mondo fa una magistrale interpretazione veramente molto coinvolgente che è Gheringas e poi violoncello è lo strumento più straordinario che c'è grazie